E visto che parliamo di Londra acutamente, il buono Alessandro Rigo mi ha tirato fuori una notiziola da paura. Sì, sì, un niente male, perché a quanto pare si è riusciti a riprodurre il suono del Big Bang. Adesso lo sentiamo. Adesso lo sentiamo. Questo è il suono del Big Bang. E' quello lì, si sente. Esplode adesso? Vorrei capirlo anch'io. Sembra una zanzara, un insetto che vola, un coleottero. Sono gli elicotteri quelli di Grillo, no? Bello. Grazie per queste emozioni. C'è che può bastare. Torniamo agli eventi. No, ma aspetta, volevo dire che il suono appunto non è quello reale, quindi è un suono remixato. Non capisco bene, ma probabilmente è la nostra segnalanza. Proprio la finalità. Quando ho detto remixato ho pensato a Tuls, 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 Tuls. Ti sali una roba tamarra. Esatto. Invece, appunto, il suono non è quello reale, la frequenza della radiazione di fondo non è percepibile dall'orecchio umano. Bene. Beh, un po', vabbè, insomma, sono cose che fanno piacere. Scusate, con tutti i fisici, acustici, in ascolto. È una cosa che abbiamo scoperto anche noi in questo momento. Non sapevamo della cosa finché non l'abbiamo ascoltata con voi. Con voi, che belle emozioni. Quindi rendiamo partecipi delle nostre scompenze. Proprio in diretta, proprio in diretta, sono le 11.11.